Vi do il benvenuto alla prima giornata del riciclo creativo! Ecco qui, tieni, Lampo. Questo era il mio pneumatico preferito. Quante corse indimenticabili abbiamo fatto insieme, amico mio. Grazie mille, Rencia. Ciao, Piu. Ho portato una scatola di vecchi ferri di cavallo. Ormai ho troppi portafortuna. Puoi star certo che ne faremo buon uso, Neko. Questo qui per voi. Ora è per allenarsi con cose molto più pesanti. Posso scommetterci, Igor. Abbiamo raccolto un'infinità di oggetti vecchi e rotti. E adesso che ne faremo? Li useremo per trasformare questo parco in un parco giochi. Che cosa ne dite? Questa è una bella idea davvero gattastica, Milady. Non possiamo fare prima uno spuntino? Io ho fame. Volpezza, sei davvero incorreggibile. Potrei mangiare quanto vuoi dopo, ma per il momento... Mettiamoci subito al lavoro! Costruiremo una bella baffigiostra proprio lì. E... Una barchetta gatto laggiù. E per finire, un'astronave felina in quell'angolo lì. Eccoli là con la loro favolosa giornata del riciclo creativo. Che porche! Possiamo andare a giocare, Bo? Sì, infatti possiamo, possiamo... Mr. Scab, silenzio! Avete fatto davvero un ottimo lavoro, Buffy Cats! Però manca un ultimo dettaglio per far funzionare i giochi. Fatemi vedere cosa c'è qui dentro. Una molla d'ammortizzatore, un trapano a mano e un cuscinetto a sfera. Ecco fatto! Questi oggetti ci saranno utili. Quegli oggetti sono miei! Erano tuoi, Buzz! Li rivolgo tutti indietro immediatamente, sono stato chiaro? Ecco fatto! Ecco attestito! Adesso andiamo a giocare! Che videogattastico! Clicca qui e guardane altri! Iscriviti al canale!